Conosco a memoria le tonalità delle montagne, degli alberi che scrudo dalla finestra, il gioco giornaliero della luce, anche quando è nuvoloso. Che cosa fa un fotografo rinchiuso 24 ore su 24 con un mondo fuori? Fisse i dettagli, ci si affeziona, ci diventa amico, ci dialoga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mondo fuori, attraverso i vetri. Chiuso in un rettangolo di cemento. E' ricco in scatola. Non ci sono alternative. Vengo rapito da nuvoli impadenti. Il vento aspira con soffio veloce. Sotto il cielo incubito. parlando piano tra i rumori del silenzio. Forse sembra un testigo. Forse sembra un testigo. amare. 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 Fresca. dolci. Dolci presente del presente. ascolta. E' di nuovo l'alba. Amare. 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 Amare.